Buongiorno a tutti, iniziamo con questa, dopo una pausa di una settimana, iniziamo con questa puntata del nuovo smarketing, il nuovo smarketing è strutturato con un percorso in quattro tappe, all'inizio abbiamo pensato che fosse bello fare improvvisazione happening, ma poi ci siamo resi conto che poteva essere invece più interessante offrirvi un vero e proprio allenamento alla vendita ed è per questo che abbiamo utilizzato il 4 3 2 1 come vendere di più, perché con queste quattro puntate dovremmo mettervi in condizione di sviluppare meglio tutte le abilità e le competenze che voi avete già, perché quello che dobbiamo dirvi è questo, noi impariamo tantissimo da ogni puntata dello smarketing, dalle domande che arrivano e alla fine in realtà è proprio grazie a questo tipo di ascolto che possiamo esservi utili, esservi utili vuol dire affrontare un medesimo argomento che in questo caso è appunto lo sviluppo delle vendite da tre punti di vista diversi ed è per questo che abbiamo questi tre personaggi qui con noi che sono appunto Eros Tugnoli, Carlo Alberto Baroni e Stefano, appunto Stefano Donati, li abbiamo chiamati anche se loro alcuni non vogliono essere chiamati così gli smarchettieri perché sono davvero come i tre moschettieri, lo sapete che nel titolo dei tre moschettieri c'è una bugia perché poi appena uno apre la prima pagina il primo che arriva è D'Artagnan che è il quarto e il quarto sono io che tento di fare un po' da filo conduttore, da tradugnion tra questi tre professionisti appunto delle vendite, Eros Tugnoli, del marketing digitale Carlo Alberto Baroni e del marketing analogico Stefano Donati. L'intervento di oggi sarà strutturato con dei brevi interventi loro, poi lasceremo lo spazio alle domande, abbiamo anche lasciato la possibilità nell'email che avete ricevuto di anticipare le domande quindi vedremo se ce ne sono alcune, tenteremo di rispondere a tutte e tenete conto che se non riusciamo a rispondere a tutte comunque proveremo nelle prossime puntate. Dalla prossima volta tra l'altro ci saranno delle novità che vi metteremo appunto a disposizione perché siamo convinti che effettivamente bisogna innovare appunto ogni volta, tenete conto che io non so voi ma qui quasi nessuno aveva mai fatto una videoconferenza, forse aveva usato Skype qualche volta e invece adesso sembra di parlare molto spesso con delle persone che sono diventate dei veri e propri guru appunto della televisione, della televisione in diretta. Siccome noi non lo siamo continuiamo a fare errori però continuiamo a metterci la faccia e la passione e allora adesso che abbiamo, intendo dire stiamo raggiungendo quelli che erano i partecipanti che si erano iscritti, io direi che si parte con il 4, 3, 2, 1 e come sempre andiamo con ordine e invece di partire dall'1 partiamo dal 4 e do la parola a Carlo Alberto Baroni. Prego. Anzi, do la parola a Stefano Donati perché naturalmente dobbiamo partire giusti e io ho sbagliato proprio perché non sono un guru della televisione sono qualche altra cosa. Prego Stefano. è fatto apposta, è fatto apposta. Bene, dovreste vedere la slide adesso, vi presento velocemente per chi ancora non mi conosce, sono Stefano Donati, come ha detto Giacomo mi occupo di marketing analogico, in particolare di marketing analitico e strategico. Come sapete il tema della giornata è il mercato, quindi io l'approccio chiaramente dal mio punto di vista e inizio subito da questo aspetto qui. Chi fa un'attività commerciale, si parte chiaramente al marketing, deve partire dall'analisi di mercato. Come sapete che il marketing si suddivide in analitico, strategico, operativo, anche se la maggior parte di chi si presenta al mercato quando ha fatto un po' di pubblicità, un po' di comunicazione, sito internet, immagine coordinata, due social che non si leggono a nessuno, crede di aver fatto attività di marketing. Peccato che si è dimenticato di tutto quello che viene prima, cioè ha osservato il mercato, si è reso conto dei bisogni, soprattutto quei latenti, e ha creato un'offerta, prodotto servizio che sia di valore, spesso questa parte viene meno e poi quando si presenta al mercato si perde in efficacia perché i nostri clienti non ravvisano l'elemento di valore. Noi adesso parliamo di analisi di mercato che molti non utilizzano anche per alcuni luoghi comuni. Tanti pensano che sia un'attività molto difficile o molto onerosa se vogliamo affidarla a qualcun altro, in realtà sono degli strumenti che oggi vi presento che sono alla portata di tutti quanti, sicuramente dal punto di vista economico sono se vogliamo un po' complessi da usare ma vedremo che con qualche indicazione potete tutti quanti vedere un po' meglio che cosa vuole il vostro mercato, anzi ancora di più con l'analisi micro e macro ambientale che vedremo oggi riuscirete a vedere in prospettiva quale saranno i bisogni nel prossimo futuro del cliente, questo vuol dire che ci possiamo mettere in condizione di realizzare fin da subito, un'offerta che avrà di per sé un appeal perché non ha un riscontro tra i nostri competitor. Partiamo dall'analisi SWOT e noi chiaramente ci occupiamo della colonna esterna oggi, cioè non ci occupiamo dell'interno dell'azienda ma dell'esterno, quindi cerchiamo di individuare quelle che sono le opportunità e le minacce del nostro, nel settore nel quale andiamo a lavorare. Come facciamo a ottenere questo risultato? Appunto considerando il fatto che la nostra azienda opera in un contesto che chiamiamo ambiente o mercato. Questo ambiente è impattato da due genere di forze, le forze micro ambientali e le forze macro ambientali. Sulle forze micro ambientali non mi dilungherò troppo perché tutti quanti noi le consideriamo per forze cose. Cosa fa parte il micro ambiente? Beh certamente il nostro cliente. La prima cosa che noi osserviamo quando entrammo in un contesto è a chi possiamo vendere il prodotto, il servizio, quindi cominciamo a fare dei cluster, cioè dei gruppi omogenei, di clienti potenziali e cerchiamo di contattarli attraverso varie forme di comunicazione. Dopo aver osservato il cliente, sempre nel micro ambiente, ci chiediamo, ho tutte le caratteristiche, le capacità, gli strumenti, i know-how, le abilità per far fronte a ciò che ho osservato essere di interesse per il mio cliente potenziale. Se ce l'ho bene, se non ce l'ho, terzo elemento in micro ambiente, mi avverrò di qualche fornitore esterno, cioè chiederò ausilio ad altri esperti di settori contiguo, quello mio, un supporto per essere più performante. Il quarto elemento del micro ambiente, ai noi, sono i concorrenti, cioè tutte quelle persone che direttamente o indirettamente ci possono dare fastidio. Perché dico questo? Perché i nostri concorrenti non sono solamente quelli che fanno il nostro mestiere, anzi a volte chi fa il nostro mestiere addirittura non è un concorrente. I nostri concorrenti sono tutti quelli che ci possono sottrarre un mercato. Se io aprissi un ristorante nel centro storico di Bologna e nel contempo che l'Alberto volesse aprire una tratteria, potremmo non essere concorrenti perché decidiamo di rivolgersi verso un pubblico diverso. Poi un giorno Eros dice, ma la zona mi piace, apro un bar, un bar veramente d'immagine e comincia a fare quelle attività note come apericena. Beh, essendo un bar di prestigio, gli avventori saranno gli stessi che vengono da me. Peccato che dopo aver frequentato quel bar e avere essersi riempiti la pancia fondamentalmente di tutti i cibi che ha dato Eros, quei clienti non vengono più da me. Il mio concorrente in realtà non è la trattoria, ma è il bar. Quindi stiamo attenti a questo concetto, si tratta di considerare chi in termini di funzione d'uso si può fare le scarpe, cioè tutti quelli che possono in un modo o in un altro sottrarci dei clienti. La parte più interessante, già che questa normalmente tutti quelli che sono all'interno di un mercato la considerano, quindi cerchiamo di presentarci al meglio, sappiamo che ci sono concorrenti, vediamo come fronteggiare le insidie che i concorrenti pongono nel mercato, ecco, in pochi si orientano verso il macroambiente. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono delle forze macroambientali dalle quali non ci possiamo sottrarre, cioè valgono per noi, per i nostri concorrenti, valgono per chiunque, che hanno un impatto quindi su tutte le aziende. Quali sono questi fattori macroambientali? Beh, la tecnologia, lo sviluppo tecnologico, gli aspetti demografici, gli aspetti politici, l'economia, le leggi... Senti una voce sottofondo? Sì, aspetta che provo a chiudere i microfoni ancora e se mi fai la cortesia poi tefano di riattivare il tuo, è un attimo che li chiudo a tutti. Ecco, dicevo, queste forze macroambientali, le ho già elencate, quindi tecnologie, aspetti demografici, politiche, economia, forze ambientali varie, il cambiamento climatico, tutto ciò che può avere un impatto sulla nostra economia, bene, se noi riusciamo a trovare il collegamento tra come una e sufficiente una di queste forze va a incidere sul nostro mercato in termini di criticità e troviamo l'antidoto, la risposta che solleva il nostro cliente da quel problema, bene, siamo già una cosa diversa. Peccato, come dicevo prima, che in pochissimi utilizzano questo strumento, quindi adesso voglio farmi vedere due esempi, uno sul microambiente e uno sul macroambiente per darvi un'idea di come può funzionare. Allora, macroambiente, B2C, cioè business to consumer, vedrete una serie di criticità, come si comporta il nostro cliente di fronte a quella criticità e qual è la nostra risposta. Il primo esempio sul B2C l'ho voluto fare sulla GDO, cioè sulla grande distribuzione organizzata perché tutti quanti almeno una volta nella vita abbiamo avuto l'occasione di andare a fare la spesa in un ipermercato. Bene, vediamo come si comportano questi colossi perché loro sì che sanno osservare il mercato a questo punto di vista. Hanno notato che il web è in crescita, il web è in crescita, il nostro cliente si adegua, sono sempre di più le persone che hanno un device a casa con la connessione online e laddove una persona pigra, oppure quando causo infortunio, devo rimanere in casa, oppure causa Covid in questo frangente specifico, voglio fare la spesa online, voglio inviarla a spesa ai miei genitori che sono anziani. Bene, questo diventa una grandissima opportunità, cioè mi collego al sito dell'ipermercato in questione, ordino la roba e me la faccio portare a casa piuttosto che farla portare a casa dei genitori. Come sempre c'è un primo che fa questa cosa, se non ricordo male il primo ad adottare questo tipo di strategia è stata S lunga, evidentemente gli altri sono dovuti correre, adeguarsi perché avrebbero in questo modo perso una grossa fetta di mercato. Ancora, mutamenti della società, oggi la società lo sappiamo benissimo, è frenetica, si corre il tempo, una risorsa scarsa, ecco che vedendo la gente in coda al supermercato che batteva i piedi per la fretta guardando all'orologio, una azienda prima dell'altra ha introdotto il salvatempo, tutti quanti sappiamo cos'è, cioè è quel device che ci consente di scansionare il codice a barre, quindi consegnare questo oggetto alla cassa, pagare e andarcene. Ancora, cosa succede nel mercato? Beh, a livello di economia, altra fase, altro leva macroambientale, la fase negativa, si fa fatica arrivare alla quarta settimana, qualcuno addirittura la terza settimana e a causa di questi problemi finanziari, parliamo quindi della leva macroambientale economia, ecco che arrivano gli sconti fine mese proprio per agevolare quelle persone che fanno un po' fatica appunto a recarsi, a fare la spesa per motivi appunto finanziari. Ancora, aspetti legislativi, una volta non si prestava troppa attenzione alla ginnità dei cibi perché si dà per scontato, oggi siamo ben consapevoli di quanto alcune aziende in maniera non troppo trasparente mettono sul mercato prodotti non di prima qualità, ecco quindi che la risposta nostra sarà dare tracciabilità dei prodotti, prescegliere fornitori certificati, far vedere quella filiera, insomma tutte quelle informazioni che ci rendono molto più tranquilli nel momento in cui mettiamo un prodotto nel carrello. Ancora, bisogno di aggregazione, siamo sui aspetti socio-culturali, questa forse è una grossa malattia della nostra società, la ricerca di socialità come la chiamava Maslow, ricerca di punti di riferimento, ecco allora che alcuni di questi colossi ha cominciato a vendere prodotti equo-solidali, usare card, delle tessere, eventi, insomma tutte quelli accorgimenti che danno un elemento di contorno di valore. Se gli osservate questi accorgimenti in realtà hanno poco a vedere quell'elemento specifico di un prodotto che andiamo a mangiare che è la qualità, la genuinità. Perché? Perché l'analisi macroambientale ci consente di vedere quei bisogni di contorno, quei bisogni collaterali che le persone non dichiarano in maniera diretta. Ecco da questo tipo di analisi riusciamo quindi a individuare queste necessità che sono nell'io dei clienti e quando i clienti osservano che sono state date queste risposte ai valori servizi pensano immediatamente guarda che bella idea che hanno avuto senza pensare che in realtà le idee sono state loro stesse a darlo attraverso atteggiamenti, attraverso comportamenti. Già che la maggior parte di voi si rivolge verso un cliente che non è un cliente privato, non siamo più nel B2C ma nel B2B, ho voluto presentarvi anche alcuni esempi di questo settore B2B. Quindi qual è il fattore macro, a quale mercato ci vuol dire. Stefano mi senti? Sì? Sì no ti chiedevo solo una cosa se posso permettermi di farti una considerazione. Quando tu parli per esempio del salvatempo in realtà oltre al bisogno del cliente che naturalmente dice ho meno tempo e quindi posso farle più velocemente, il salvatempo alla fine riesce non solo a raccogliere tutta una serie di dati in più rispetto a quello che potrebbe essere semplicemente appunto una spesa fatta alla cassa e soprattutto sposta un'attività che normalmente viene fatta dalla cassiera su di te. Per cui oltre al risolvere il problema del cliente dà dei vantaggi non indifferenti io penso a chi ha trovato questo tipo di soluzione. Non so se è in effetti corretta anche questa considerazione. è correttissimo, poi adesso in profondità considerate addirittura che attraverso questo salvatempo la compagnia riesce a vedere il percorso che noi facciamo all'interno dell'area, dell'ipermercato. Quindi se osservano che certi corridoi sono più frequentati guarda caso le volte successive cercheranno di inserire dei prodotti dove hanno buone marginalità quindi altro che grande fratello. Qui ci osservano con grandissima attenzione gli spostamenti il percorso che fanno le persone all'interno dell'ipermercato. Siamo a livelli quasi inquietanti direi, certamente loro fanno queste cose, ci indicano qual è il nostro vantaggio, non ci raccontano qual è il loro vantaggio e quello che tu hai appena enunciato è oggettivamente corretto. Dicevo quindi ci sono anche esempi nel mercato delle cucine. Il nostro cliente che in questo caso se noi vendiamo marmo sarebbe il produttore di cucina perché fa il top conciliare materiali pregiati con la delizia naturali. Guardate qua un'azienda leader nel settore si chiama Marmorredo ha riempito. Penso che ci siano dei problemi proprio di connessione, si sente poco. Adesso prova a riparlare che vediamo se si sente. Mi sentite? Adesso ti sento, sì. Mi sentite? Bene. Quindi ha realizzato un top leggerissimo adatto a tutte le strutture. Mi rendo conto della situazione nel massimo. Per chi fa un lavoro numerico e nei paesi dove la manuopera non è specializzata, nel momento in cui si è bisogno di un intervento, assistenza, manutenzione, dotano di Google Glass i loro clienti in maniera tale che in remoto riescono a indicare come operare sulla macchina, per incrementare la redditività all'interno delle grandi superfici per metro lineare, la parola sapete che ha modificato la forma della lattina, più sottile e più alta e questo vuol dire che dove ce ne stavano 50 ce ne stanno 80. Quindi il prodotto non è mai autostock e gli servienti non sono costretti a riempire continuamente gli scaffali. Ancora di legislazione in contesti, in ambienti come l'Australia, dove l'attenzione all'ambiente è fortissima, hanno venduto, questa qui è l'azienda di Vicenza, questo oggetto che riduce le lattine in polvere d'alluminio, dove ce ne stavano 50 ce ne stavano 500, così possono anche riutilizzarlo. Ancora socioculturali, i giocattoli, la Mattel ha capito, fece un errore incredibile perché non adattò il macroambiente al suo prodotto, portò la Barbie in Giappone, fu un buco nell'acqua colossale perché la bambina giapponese non si riconosceva nella bambola che aveva le sembianze di una californiana, hanno rifatto la barba con le sembianze orientali, ne hanno vendute 2 milioni di pezzi in un anno. Cosa voglio dire? Voglio dire che se noi usiamo questo strumento e cerchiamo di capire come il nostro mercato è orientato e come è condizionato dai fattori macroambientali, ecco che troveremo delle risposte non ancora presenti che avranno un grande successo nel mercato, poi dopo devono essere comunicate e quindi ci serve chiaramente anche l'ultima parte del marketing, che è il marketing operativo del quale poi si occupa Carlo Alberto. Bene, io ringrazio naturalmente Stefano Donati, intanto chiedo a Carlo Alberto Barone di prepararsi appunto per la sua parte che sarà sul communication mix e quindi canali versus contenuti, chiedo invece faccio una semplice domanda a Stefano se naturalmente è in grado di darmi una risposta veloce che è questo, come si riesce a mettersi appunto in ascolto di questi bisogni intendo dire del cliente, qual è il primo elemento appunto da attivare perché poi è il cliente naturalmente che probabilmente è la fonte di tutte le nostre innovazioni o di tutte le nostre soluzioni e chiedo anche se sia vero che i clienti migliori sono quelli che reclamano di più. Allora gli strumenti fondamentalmente sono due, uno è l'intervista e l'altro è l'osservazione. L'intervista è un po' meno efficace, un po' meno importante, è importantissima, ma ha un problema l'intervista che la fanno anche i nostri concorrenti, quindi tutto ciò di cui noi veniamo a conoscenza diventa patrimonio comune e quindi siamo di nuovo punto a capo, partiamo tutti alla pari. L'osservazione è un'altra cosa, l'osservazione fa sì che noi riusciamo a individuare attraverso comportamenti, atteggiamenti, situazioni difficili da gestire, quei famosi bisogni non dichiarati. Ecco io invito tutti quanti a osservare questo tipo di fabbisogno perché sono quelli proprio che mi condurranno a creare quell'elemento di differenza rispetto ai miei competitor. Osservare vuol dire anche navigare in interno, un forum nel quale delle persone trattano in maniera del tutto libera su un prodotto è fonte di informazione importantissima, perché mi dicono, ad esempio, per allacciarmi alla seconda domanda, quali problemi hanno avuto. Ecco, noi dobbiamo concentrarsi sui problemi dei clienti, quindi laddove un cliente manifesta un disagio per noi è una fonte di informazione eccezionale.